Camera ardente che si è chiusa proprio poco fa a mezzogiorno e riaprirà oggi pomeriggio le 18 fino a mezzanotte così come era stato ieri sera. Ieri sera quando è arrivata per il saluto alla grande Raffaella Carrà anche Maria De Filippi accolta da Sergio Iapino e poi più tardi ancora Pippo Baudo assieme a Renzo Arbore e Pupo tutti qui per salutare l'amica, la collega ma poi ci sono anche tante persone comuni e crescono i fiori gialli attorno alla bara di legno semplice così come lei l'aveva chiesta. Quelli che portano i fan che conoscevano bene i suoi gusti persone giovani persone anziane chi racconta di averla incontrata di persona e chi l'aveva conosciuta solo sullo schermo e un grande schermo dentro la camera ardente rimanda le immagini dei tanti suoi successi le trasmissioni televisive i suoi balletti le sue canzoni nella camera ardente che sarà aperta ancora domani mattina dalle 8 alle 11 poi alle 12 il funerale sempre qui in Campidoglio nella chiesa di Santa Maria in Araceli. A presto!